Ciao, sono Francesco De Nobili e mi occupo di formazione e consulenza in digital marketing e comunicazione online. Ti aspetto il 19 ottobre e il 26 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18, per due incontri dedicati al personal branding, cioè come creare e raccontarsi attraverso il web, creando ad esempio un blog e promuovendo la propria attività all'interno dei social network.